Tragico incidente sulla Modica Ispica all'altezza della curva dove è persa la vita Gigi Olivari. Ieri sera a morire è stata una donna di 44 anni gravemente ferito il compagno alla guida. Non solo arresti e controlli del territorio, la polizia è impegnata in una corsa contro il tempo da Trapani a Modica per salvare la vita a un paziente ricoverato in cardiologia all'ospedale Maggiore. Una pessima annata per l'aeroporto Piola Torre di Comiso che nel 2019 perde oltre 70.000 passeggeri. Si spera nel 2020 nella nuova tratta Blue Air con Turino. Inizia bene per molte squadre iblei la fase di ritorno del nuovo anno. Vincono il Marina di Ragusa e Ragusa in promozione a Maro Pareggio invece per il Modica. Salve a tutti e bentrovati con il Tg di Canale 74. Apriamo con la cronaca in particolare con il tragico incidente autonomo ieri sera sulla Modica Ispica. Una curva a gomito pericolosissima, teatro già di gravissimi incidenti stradali, si è rivelata fatale anche per una donna di 44 anni, gravemente ferito invece il compagno alla guida. Un morto e un ferito in un incidente stradale sulla 115 che collega Modica ad Ispica. A morire una donna di 44 anni, Ucraina, Ivantes Iulia, residente a Modica. Ferito l'uomo alla guida un 41enne, cittadino lituano, residente a Lentini. Per cause ancora da accertare, ieri intorno alle 22.20 l'auto, una BMW Serie 3, è finita fuoristrada. L'altezza di contrada, Beneventano, ne preside la curva dove c'è ancora la stele dedicata al pilota Gigi Olivari. Come si vede dall'immagine, neanche il muretto che perimetra la carreggiata è riuscito a contenere la velocità dell'autovettura terminata sul terreno adiacente dopo aver carambolato anche contro il muretto opposto lasciando vistosi segni che tolgono ogni dubbio sulla velocità sostenuta dal conducente del mezzo che come si nota anche dai segni sull'asfalto sembra non aver notato la curva. Un altro, l'ennesimo tragico incidente, proprio in quella curva a gomito, la stessa che il 13 aprile del 57 torse la vita al famoso pilota Olivari e a seguire si rese teatro di numerosi altri gravi incidenti. Sul posto i soccorsi hanno constatato che per la donna non c'era ormai nulla da fare. L'uomo invece è stato portato all'ospedale Maggiore di Modica dove è ricoverato, in prognosi riservata, neanche 48 ore prima, sempre a Modica, poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica un altro incidente con otto ferite e quattro vetture coinvolte. Ad oggi le loro condizioni sembrano stazionarie e fanno ben sperare per una veloce ripresa, per lo più fratture scomposte, traumi e contusioni. Ripercorrendo i fatti teatro dello scontro in quella circostanza, la statale 194 Modica-Pozzallo all'altezza del chilometro 104 in territorio di Modica ad essere coinvolte un Audi e una Micra che viaggiavano in direzione di Modica e una Golf e un'altra Audi che invece erano dirette a Pozzallo. Feriti quattro uomini, tre donne e una bambina di 10 anni residenti a Modica, Pozzallo, Scicli e Santa Croce mentre altri due sono originari di Battipaia. La bimba modicana è stata ricoverata in ospedale insieme ai suoi familiari e alle altre persone coinvolte di età complessa tra i 63 e i 22 anni. E ora una notizia, lieto fine, quella arrivata dalla polizia di Ragusa a Reduc da una corsa contro il tempo da Trapani al territorio ebleu per consegnare un farmaco salvavita ad un paziente ricoverato al maggiore di Modica. Sentite. È stata una vera e propria corsa contro il tempo quella delle pattuglie della Polizia di Stato per poter recuperare un farmaco salvavita destinato a un paziente ricoverato al reparto di cardiologia dell'ospedale maggiore di Modica. È successo domenica quando alle 23 circa alla sala operativa della questura di Ragusa è arrivata una telefonata con cui veniva preannunciato l'arrivo all'aeroporto di Catania del farmaco destinato al paziente ricoverato a Modica. In tempi celeri è stato organizzato e coordinato il servizio per il prelievo del farmaco mediante staffetta di pattuglie della Polizia Stradale di Ragusa e Catania. Purtroppo a causa delle forti raffiche di vento il velivolo su cui viaggiava il farmaco salvavita è stato dirottato all'aeroporto di Trapani costringendo le pattuglie a rimodulare le modalità di prelievo coinvolgendo altre squadre di polizia. Una nuova staffetta questa volta da Palermo a Lentini e poi fino a Ragusa e l'ospedale maggiore di Modica dove ad attenderli i medici di turno della cardiologia. Con quest'ultimo intervento si è concluso positivamente per la Polizia di Stato il periodo delle festività netadizie trascorse all'insegna della sicurezza nel territorio ebleo. Sono state queste le direttive del questore di Ragusa Pinuccia Albersinagnello durante le festività appena trascorse che in raccordo con la prefettura ha predisposto servizi straordinari di controllo del territorio con l'impiego di numerose pattuglie. L'attività di prevenzione e controllo effettuata dalla Polizia di Stato ha avuto come obiettivo non solo di prevenire le commissioni di reati in particolar modo quelli di natura predatoria ma anche di contrastare la produzione, il commercio e la detenzione di manufatti pirotecnici illegalmente importati, detenuti o fabbricati. A tale scopo numerosi sono stati controlli effettuati nei vari esercizi commerciali della provincia finalizzati ad accertare l'eventuale messa in commercio di artifici pirotecnici non conformi alla normativa vigente e quindi pericolosi per l'incolumità fisica degli utilizzatori. Storia a lieto fine anche per un pensionato di Pozzallo che aveva perso il portafoglio con la pensione appena ritirata. A ritrovare il borsellino con il prezioso contenuto un cittadino ennese che si sta trasferendo nel comune marinaro e che attraverso i documenti contenuti nel portafoglio è riuscito a risalire al proprietario. L'uomo ha così potuto incontrare e restituire il tutto al legittimo proprietario. Ma andiamo avanti e adesso parliamo dell'aeroporto di Comiso perché mentre Palermo e Catania salutano il vecchio anno con numeri da record per il Pio La Torre invece c'è un calo. Si registra un calo rispetto al 2018 di circa 72 mila passeggeri. Il 2019 certo non è stato il migliore degli anni, anzi probabilmente potrebbe essere definito il peggiore, quantomeno dal punto di vista statistico. Mese per mese per tutto l'anno si è assistito ad un calo e quindi una perdita di passeggeri con dati confrontati agli stessi periodi del 2018. Tuttavia l'anno appena passato commenta il gruppo Fly Comiso che da anni cura e controlla l'operato del Pio La Torre si è concluso con un colpo di scena che ci fa stavolta concretamente ben sperare per il 2020 appena iniziato. Ci si riferisce alla nomina di Rosario Di Bennardo come a Di Di Soaco, carica mai ricoperta dallo stesso fino ad ora, poiché lo ricordiamo in precedenza era stato il presidente con poteri e compiti differenti rispetto alla carica attuale. E' quasi casualmente all'arrivo, finalmente dopo anni e anni di finti proclami di Blue Air con il volo da e per Torino. Fatta questa doverosa premessa è tempo di iniziare anche ad elencare qualche dato in anteprima e in attesa di quelli ufficiali che saranno poi diffusi da ASA Aeroporti. Bene, il 2019 si è chiuso per Comiso con appena 352.220 passeggeri. Nel 2018, anno che tuttavia non brillò in fatto di numeri, i passeggeri furono 424.487 determinando pertanto un calo di circa 72.200 passeggeri. Un dato allarmante causato dai numerosissimi tagli adoperati da Ryanair sia in stagione invernale che soprattutto nell'estiva e dal calo nei voli charter fiorenti invece negli anni passati. Per quanto riguarda invece i numeri di dicembre, si sono registrati circa 16.180 passeggeri e così divisi. 7.140 per Milano con un calo del 2% rispetto a novembre. I voli arrivati e o partiti in sold out sono stati 261 in tutto l'anno. Pisa ha fatto registrare circa 3.700 passeggeri con un aumento del 2% rispetto a novembre. I voli arrivati o partiti in sold out sono stati 93. Per quelli internazionali Bruxelles ha fatto volare 3.100 persone a dicembre, il 7% in più rispetto al mese di novembre. E i voli sold out in questo caso sono stati 58. Infine Francofonte con 2.600 biglietti staccati lo scorso mese e 57 voli sold out nel 2019. Restiamo a Comiso dove il primo cittadino Maria Rita Schembari ha fatto un bilancio degli eventi natalizi. Un bilancio più che positivo che oltre al consenso dei cittadini ha trovato anche quello dei tanti visitatori che hanno preso parte agli eventi sia a Comiso che nella frazione di Pedalino. Il sindaco Maria Rita Schembari fa un bilancio degli eventi natalizi organizzati a Comiso. Il applauso e il consenso della città ci conforta e ci gratifica. Abbiamo messo in campo, spiega il primo cittadino, tra dicembre 2019 e i primi di gennaio 2020 una serie di eventi, di spettacoli e di iniziative che hanno coinvolto la quasi totalità dei cittadini di Comiso e Pedalino. Già a partire dall'8 di dicembre hanno preso il via i mercatini natalizi allocati nel centro storico. Per due domeniche, in accordo con i commercianti, abbiamo assistito a un tripudio di visitatori per il corso e il viale in festa, iniziative che hanno avuto come protagonisti tutti gli esercenti delle due zone commerciali del centro urbano. Contemporaneamente musica, animazione e concerti nella frazione di Pedalino. Anche l'esposizione dei presepi di Caltagirone, la mostra di arte sacra nella chiesa di Maria Santissima annunziata, in quella di Santa Maria delle Stelle a San Francesco all'Immacolata, hanno registrato centinaia di visitatori da tutta la provincia. Il primo cittadino casmeneo ha ricordato l'ottima riuscita di Luce Finita Fest, che quest'anno ha scelto una location particolare, facendo sì che si riaprisse al pubblico l'antico cinema Vona, che nell'immaginario collettivo dei comisani resta sempre un ricordo indelebile. Accanto a tutto ciò, particolare attenzione anche ai bambini, con le giostrine di Natale e spettacoli di strada con i personaggi di Walt Disney. All'interno di questa kermesse lunga un mese, afferma il sindaco, si è inserita in maniera perfettamente contestualizzata la prima edizione di Inaselli a Comiso, che grazie all'associazione La Mongolfiera ha fatto rivivere un periodo importante della storia di Comiso, agevolando soprattutto notevole flusso turistico. Durante l'evento si sono esibiti i tamburi imperiali di Comiso, i musici e sbandieratori agropriolese e la compagnia del Gufo. E a conclusione di questo ciclo di eventi, la cena degli auguri. Un successo anche questo, visto la grande partecipazione registrata. Tutto ciò, a concluso Maria Rita Schembari, è stato possibile solo grazie a un buon lavoro di squadra, in sinergia con tutti gli uffici che hanno collaborato per la buona riuscita di una kermesse che a Comiso non si vedeva da diversi anni. Ultima esibizione di Natale per l'associazione musicale e culturale Note di Mare al Santuario del Carmine a Ispica. Anche questa volta i coristi hanno intrattenuto il pubblico di fedeli con un repertorio di ninne e nanne in siciliano. Guardate. Ancora una volta l'associazione musicale e culturale Note di Mare incanta il pubblico. Questa volta è il Santuario della Madonna del Carmine ad Ispica ad accogliere il gruppo formato da coristi non professionisti che si dilettano a cantare brani in siciliano, guidati dalla professoressa Angela Profetto. L'esibizione a Ispica è stata l'ultima delle quattro tappe del periodo natalizio, iniziato lo scorso 26 dicembre nella chiesa di Portosalvo a Pozzallo. Poi sono state le parrocchie della Madonna delle Lacrime e di San Giuseppe Lavoratore a Modica ad accoglierli. Un successo dopo l'altro in una atmosfera di riscoperta delle tradizioni delle ninne e nanne siciliane. Le ninne, intonate dal coro e accompagnate dal sassofonista Andrea Di Tommasi, dal percussionista Antonio Cantinacci ed Angela Profetto Alpiano, hanno risuonato nel Santuario del Carmine come in un caloroso abbraccio. Le ninna-nanne, così come i canti popolari, rappresentano dei veri e propri beni culturali da custodire gelosamente. In esse si fondono parole, suoni e gesti in un immaginario fiabesco che accompagnano il bambino ad un sonno tranquillo e rilassante. Una vera e propria riscoperta per i più e meno giovani, simbolo di un'identità culturale che si sta perdendo, ma che grazie all'impegno di persone come il gruppo Note di Mare possono essere ascoltate e cantate. E ora lo sport e il calcio con i risultati delle squadre iblei reduci sabato e domenica dalla prima partita di ritorno nei rispettivi campionati di Serie D, eccellenza e promozione. In Serie D inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per il Marina di Ragusa che domenica è tornata a regalare emozioni e anche una vittoria tra le mura amiche dell'Aldo Campo. Tre punti conquistati contro il Nola grazie a un solo gol firmato da Di Bari dopo circa un quarto d'ora di gioco per il resto del match. I ragazzi di Mister Utro hanno sempre tenuto stretto il vantaggio rischiando qualcosa nella propria area ma riuscendo a resistere fino al triplice fischio finale. Vittoria importante per il Marina che inizia con il piede giusto il 2020 che porta la squadra di Mister Utro a pochi passi dalla zona salvezza con 18 punti totali. Prossimo appuntamento contro il Corigliano penultima in classifica e reduce da due sconfitte. In eccellenza bene anche per il Ragusa che con un gol per tempo liquida senza patemi d'animo la pratica con l'Enna con il risultato finale di 2-0. Adesso per gli azzurri 31 punti, una quarta posizione in classifica e la conquista della seconda vittoria consecutiva all'Aldo Campo dopo il successo casalingo prima della pausa natalizia ottenuto nel derby con il Santa Croce. Quella di sabato, commenta l'allenatore azzurro Alessandro Settineri, è stata una partita in cui non abbiamo rischiato praticamente quasi nulla. La partita era delicata e difficile non solo per l'avversario ma soprattutto perché noi per il momento abbiamo ancora un numero esiguo di calciatori. Mi hanno gratificato gli applausi del pubblico alla fine del match rivolti alla panchina. La classifica la lasciamo agli altri. Noi cerchiamo di ottenere il meglio da noi stessi. A fine anno vedremo in quale parte della graduatoria ci ritroveremo. Sempre in eccellenza anche il Santa Croce che ora deve fare i conti con una deludente e pesantissima sconfitta. Quella contro il Rosolini, partita terminata bene 7 a 1 per i padroni di casa. Gli stessi che hanno dedicato tutto il match e la vittoria al loro portiere scomparso. In un incidente stradale qualche giorno fa, Antonino Malandrino, indossando anche all'inizio della partita una maglietta bianca con il suo nome. In promozione, amaro pareggio del Modica in casa. 2 a 2 contro la Riccardo Garrone Siracusa. Un Modica bello e risoluto nel primo tempo, a cui sono stati negati anche due calci di rigore per vistosi falli di mani in area. Si è però fatto bloccare sul nulla di fatto dagli avversari che non hanno mollato di un centimetro dopo aver subito il gioco dei Tigrotti. Primo tempo infatti terminato con un Modica in vantaggio 2 a 0 per due reti segnate al decimo e quarantesimo minuto di gioco da Lombardo e Vicari. Nel secondo tempo la svolta da parte degli ospiti che a testa bassa sono riuscite ad accorciare le distanze e infine strappare un pareggio ad un Modica a tratti anche sfortunato, non solo per i rigori non fischiati ma per un'azione sfumata al 95esimo minuto. Con Vicari che ha conquistato il pallone in centro, scavalcato anche il portiere con un pallonetto, manda la palla fuori sfiorando il palo mentre l'albitro decreta la fine del match, sempre in promozione altra partita a tratti simile, quella al vertice del Megara-Gusta e il Pozzallo. Partita anche in questo caso terminata 2 a 2 dopo un inizio tutto a favore del Megara. Il Pozzallo è infatti riuscito a riprendersi e quasi a vincere dopo aver subito soprattutto nei primi 20 minuti l'incessante attacco degli avversari. Pareggio che comunque conferma la prima posizione in classifica. De Leoni Blei adesso a quota 36 punti e ha una lunghezza sopra il Megara-Augusta. Pareggia 1 a 1, anche la Virtu si ispica contro il Caltagirone mentre l'atletico Scicli batte 1 a 0 il Frigintini. Perde il Comiso 2 a 1 contro l'Armerina. E ora il basket, una trasferta complicata per la passalacqua a Ragusa che ha battuto il Broni. Le ragusane hanno sofferto le azioni offensive delle Lombarde riuscendo comunque a domarle negli ultimi minuti e imponendosi con il risultato finale di 67 a 72. La determinazione, la coesione e la voglia di portare a casa due punti preziosi. La passalacqua a Ragusa batte Broni in trasferta alla termine di una match dei più difficili combattuti nel quale Consolini e compagne hanno avuto il merito di restare lucide nei momenti più importanti della partita uscendo dal Palabrera con il risultato finale di 67 a 72. Ragusa parte bene, poi le padrone di casa si rifanno sotto e la partita resta equilibrata fino alla fine ma sul finale le biancoverdi sono più ciniche e alla fine vincono meritatamente. Con questa ultima partita si chiude il girone d'andata ma Ragusa avrà ancora da giocare il recupero dell'incontro con Costa Masnaga il prossimo 15 gennaio che oltre alla classifica sarà importante anche per definire la griglia della finale 8 di Coppa Italia. Con una vittoria la passalacqua si classificherebbe al primo posto. Partita durissima, commenta Coccio Recupito, come avevo già previsto e sono due punti che valgono tantissimo. Broni è in nettissima ripresa, ha fatto buoni risultati e buone prestazioni nelle ultime giornate. Giocano un buon basket e sono sulla via dell'anno scorso. Hanno una grande organizzazione difensiva. Noi abbiamo avuto un buon impatto, poi qualche difficoltà di troppo ma abbiamo tenuto botta con serenità e da grande squadra abbiamo gestito anche con attenzione palloni importanti. Temevo la partita e si è rivelata complicata e difficile da vincere quindi complimenti alle ragazze perché si poteva mettere male ma non hanno perso questione e fiducia. Questa è stata la chiave della partita. Sono rimaste lucide nei momenti di difficoltà. Ancora basket, scontro al vertice, quello che si è giocato al Palacus a Catania. La Virtus Ragusa in trasferta sul difficile campo dell'Alfa Basket è riuscita a tenere ritmi elevati per i primi tre quarti della gara per poi cedere il passo agli etnei che hanno chiuso la partita con il risultato di 84 a 64. Ma vediamo il servizio. Uno scontro al vertice, quello che si è consumato alla Palacus a Catania tra la TD Carra Virtus Ragusa e l'Alfa Basket. Entrambi gli schieramenti sono arrivati alla prima giornata di ritorno del campionato di basket di Serie C Silver con gli stessi punti in classifica. Lo scontro diretto ha dato ragione agli etnei consegnando così la vetta solitaria del girone dopo una partita equilibrata in una bella cornice di pubblico dove a vincere è stato in primis lo sport e il rispetto reciproco. Il risultato finale di 84 a 64 non spiega da solo l'equilibrio che si è avuto sulla parche catanese. Il divario tra le due formazioni matura solo negli ultimi minuti dell'ultimo quarto. Nei primi tre tempi va in scena una gara che non delude le attese e i parziali parlano da soli. La Virtus Ragusa, priva del capitano Sorrentino e della new entry a Gosta si dà un gran da fare sotto canestro grazie all'ottima prestazione di Salafia ma i ragazzi allenati da Coach Guerra hanno messo in campo un'ottima performance grazie ad azioni sotto le plance che non hanno dato scampo agli ospiti. Abramo, Legend, Mazzoleni, Marzo e Luzza hanno dato prove in campo di tenere ritmi sempre elevati. Anche gli blei non hanno mai mollato la presa e la palla ha girato velocemente da un'area all'altra senza mai accennare a un calo di intensità. Si arriva alla penultima sirena su un 56-54 che fa ben presagire uno spettacolo al cardiopalma per gli ultimi minuti. I virtussini però calano i giri del motore e Catania di Laga aumentano progressivamente il proprio vantaggio sui rivali e festeggiano la vittoria e il primato solitario. Grande successo, è tutto sold out venerdì e sabato al teatro di Donna Fugata a Ragusa Ipla per Flavio Insinna con il suo spettacolo La macchina della felicità risate ma anche interrogativi profondi sulla vera strada che porta alla felicità perché Insinna nel suo show ha dimostrato che la felicità esiste sta nelle piccole cose bisogna solo cercarla con occhi attenti nel posto giusto Lo hanno dimostrato anche le lettere, le testimonianze e le storie raccontate in due ore di spettacolo serrato e ricco di applausi E questa era la nostra ultima notizia Il Tg termina qui Grazie per averci seguito e arrivederci